Credo, signore, che dal lato mare saremmo troppo vulnerabili se non ci premoniamo di imbarcazioni non a ma scoperta. Hanno già provveduto i dieci su questo. Arriveranno presso tre imbarcazioni, appositamente noleggiate a tale scopo. Una caravella, un brigantino e una fusta, e tutte dotate di una colubrina. Verranno usate lungo la costa per avvestare l'arrivo della flotta austriaca. Bene, signore, la notizia mi rasserena alquanto. Siete ancora intenzionati a dare seguito per la festa oppure pensate sia meglio soprassedere? No, no, la faremo senz'altro, la faremo. È meglio che il popolo non si allarmi. È giusto che si divertano un po'. Voglio creare allarmismi inutili in questo momento. Date pure, ora.